È stato un piacere aver conosciuto una persona molto particolare, un grande maratoneta, che mi ha anche un po' incuriosito e impressionato per le sue doti, per le sue capacità, per la sua autonomia in qualche modo e sono felice di averlo conosciuto e felice anche che lui abbia scelto di passare a Toscagna, di vivere una giornata in questa struttura e veramente è una situazione molto particolare e positiva in questo. Quindi lo ringrazio della sua venuta a Toscagna e sono felice appunto di averlo incontrato e di averlo conosciuto. Se ritornerà in Italia e ritorna a Toscagna, doppiamente la felicità aumenterà nei suoi confronti. Ciao Coen e buon viaggio, mi raccomando!